Amici, eccoci qui, parliamo di Parma-Napoli, del massimo campionato italiano cadetto di calcio maschile Serie A, è finita la partita da pochissimo, i partenopesi sono imposti nella terra parmigiana per 2-0 con le reti di Dries Mertens, tutte e due le reti nel secondo tempo. Dries Mertens al 63esimo e Insigne al 77esimo, ma da come ho letto poco fa anche con l'app di Sky Sport, di Sport Mediaset, una grande spina che è stata data da parte di Ossiman che è entrato al 61esimo, quindi la classifica insomma siamo, vabbè al momento come squadre che hanno tre punti abbiamo il Napoli, la Fiorentina, Roma e Verona ad un punto, Torino e Parma a zero. Tra una mezz'oretta circa ci sarà Genova-Crotone, vediamo se il Crotone, che ricordiamo proprio non molto lontano, in questi anni è stato di nuovo in Serie A, come si ripresenterà se andrà a caccia, magari chissà di fare un brutto scherzo al Genoa o comunque di fare una buona partita, perché comunque sappiamo tutti, la prima partita di campionato, iniziare bene, che sia un vareggio, una vittoria. Comunque, ripetiamo e chiudiamo il quadro, ripetendo, il Napoli vince al Tardini contro il Parma per 2 a 0, Reddi nella ripresa, Mertens al 63esimo, Insigne al 77esimo, se vogliamo aggiungere un'altra nota possiamo parlare dei campi, per il Parma sono entrati Caramo, Dezi e Siligardi, nel Napoli sono entrati i campi tutti nel secondo tempo, con Miguel, Osiman, Hermas, Politano, Lobotka e Andrea Petagna, quindi io vi lascio, penso che al prossimo video, magari su Genoa, Crotone, quindi ci vediamo sempre in questa giornata per altri video e buonasera a tutti, alla prossima, alla grande amico, ciao, forza Napoli!